Due sono i vaccini approvati in Europa dall'Agenzia Europea del Farmaco e sono lo Spikevax, prodotto da Moderna e Comiratnik, prodotto dalla Pfizer-BioNTech. Entrambi sono approvati dall'Agenzia Europea del Farmaco per la fascia di età che va dai 12 ai 17 ai 18 anni. La dose viene fatta come per l'adulto nella parte del deltoide, del muscolo, del braccio e gli effetti collaterali sono sovrapponibili e quelli dell'adulto. Il dolore in sede di iniezione nel 90%, stanchezza, spossatezza e cefalea nel 40% e poi tutti gli altri sintomi che possono variare a dolori articolari, a una stanchezza, modello sindrome influenzale, mialgie e talvolta nel 5-15% anche delle puntate febbrili, non elevatissime però delle puntate febbrili. Cosa fare per questo? Nella maggioranza dei casi, sia per la prima che per la seconda dose, questi effetti collaterali, se ci sono, perché molte volte non ci sono, si affronta con il riposo a letto, senza bisogno di farmaci, se compare febbre o il dolore è proprio insopportabile, si può far ricorrere al paracetamolo. Per quanto riguarda altri farmaci ne è sconsigliato l'uso, soprattutto per esempio farmaci antinfiammatori, va considerato soltanto il paracetamolo come antidolorifico. Ci sono delle frequenti domande riguardo la vaccinazione in età pediatrica, sono quasi tutte delle fake news, il fatto per esempio che il vaccino in età pediatrica non è stato sperimentato adeguatamente e l'altro degli effetti collaterali a breve e lungo termine diversi da quelli registrati. Mi sento di tranquillizzare i genitori, nel senso che per quanto riguarda la sperimentazione del vaccino ogni canone sperimentale è stato osservato con diligenza. Quello che è stato accorciato per farne in maniera che ci sia una diffusione subito sono saltate tutte le procedure burocratiche, che molte volte durano anche anni. Saltando queste procedure naturalmente questo vaccino è stato prontamente disponibile, dovuto all'emergenza. Per quanto riguarda invece la sperimentazione, tutti i canoni sono stati rigorosamente osservati, soprattutto in tempi come questi. Sono state già iniziate le prime sperimentazioni nell'ottobre 2020, insomma su migliaia di soggetti. Per quanto riguarda gli altri effetti collaterali a medio e lungo termine, per esempio l'accrescimento sia in statura che in peso del bambino che lo sviluppo neurologico, anche queste sono fake news. Il vaccino non va a interferire in nessuna maniera, ma anche gli altri vaccini in nessuna maniera con l'accrescimento sia della statura che del peso e né tanto meno con lo sviluppo neurologico del soggetto. Il vaccino fa la sua parte, induce una risposta al sistema immunitario lasciando stare completamente il resto. Un'altra importante fake news che circola è l'interferenza del vaccino con la fertilità, assolutamente da escludere, si è visto addirittura nelle fasi sperimentali nell'adulto, che era stato sottoposto anche a tante donne in età fertile e tantissime sono rimaste incinte senza problemi. Questo non va a indurre né un deficit di fertilità né maschile né femminile, è proprio una fake news che circola. Per quanto riguarda la somministrazione contemporanea di altri vaccini, è uscito recentemente un lavoro del CDC, che è l'Istituto di Superiore Sanità americano, che dice che questo vaccino in teoria potrebbe essere somministrato contemporaneamente a altri vaccini senza che succeda niente. La prudenza ci dice che si può aspettare dai 15 giorni a un mese per la somministrazione di un altro vaccino, per esempio negli adolescenti ultimamente si sta facendo sia la vaccinazione per il papillomavirus che la vaccinazione per il Covid-19, basta aspettare due settimane e non succede niente, non ci sono effetti collaterali di grosse reattività. Per quanto riguarda la ridotta morbidità e mortalità del Covid-19 in età pediatrica, ci si è posti, hanno posto la domanda se vale la pena fare il vaccino, la risposta è sì, la risposta è sì per tantissimi motivi, il primo motivo è che sì, è ridotta la mortalità e la morbidità da Covid-19, però sappiamo benissimo che la morte di un bambino ha un peso emotivo, mediatico e sociale completamente diverso dall'adulto e da un anziano, per cui non solo per questo motivo, ma anche perché se più circola il virus, più serbatoio trova e maggiore è la sua durata, se noi riusciamo a coprire con la vaccinazione anche in età pediatrica la popolazione, riusciamo a ridurre e arrivare a quella immunità di Grecia che ci permette di non creare la diffusione del virus e quindi far finire velocemente questa pandemia. La domanda non si pone perché ho già vaccinato appena è uscito il vaccino i miei figli e non ci sono stati effetti collaterali ed ero sicurissimo di questo vaccino, da genitore ho affrontato con tranquillità e assoluta la cosa e gioco forza anche da medico. A un genitore indeciso dico sempre che non esistono i vaccine o vax, cioè una dicotomia, ma ci esiste una fetta di incertezza e indecisione prodotta appunto dalla nostra società moderna, siamo una società liquida in cui ciascuno può dire quello che vuole e essere creduto da una fetta di popolazione. Io raccomando di fidarsi della scienza perché un conto è la formazione e un conto è l'informazione, l'informazione è il momento, la formazione dura nel tempo ed è quella che ci permette di affrontare meglio queste situazioni. I medici, i ricercatori sono tutte persone formate e quindi è necessario fidarsi per il motivo che hanno affrontato in maniera seria e scrupolosa questo problema. Quindi il vaccino è il prodotto di questa serietà e di questo rigore, quindi è necessario fidarsi per questo motivo.